Quindi sarebbe stato il gol del 2-2? Che peccato, questo davvero era un gol già fatto, io fossi stato in Silva mi sarei avrabbiato tantissimo con Franchi. E tu ti arrabbi spesso, noi lo chiederemo a Rijksaber, centrocampista della Piacenza, il gioiellino bianco-rosso che stasera sarà con noi in studio a zona calcio a partire dalle 20.20 per parlarci di questo incredibile epilogo della partita di ieri. Invece quante domande hai preparato per Mr. Fulvio Pea, l'allenatore del proprio Piacenza che stasera sarà con noi alle rotative? Sarà un vero terzo grado Nicoletta? Lo aspettavi da un sacco di tempo, quindi ci sono davvero tantissime curiosità e tantissime domande, dal modulo ai giocatori, il calcio mercato, c'è di tutto. Poi avremo la Borgonovese come ospite per lo spazio dedicato al calcio di Lettanti, ci sono anche tante immagini, un episodio su tutti. Beh sicuramente più che un episodio è la partita della Castellana, perché anche lì abbiamo visto un sacco di occasioni sciupate, la squadra di Forcare ha rischiato di accadere per la prima volta e poi ovviamente parleremo di mercato. Ci vediamo alle 20.20 su Tele Libertà con Zona Calcio.